Presso la sede del Ministero dell'Ambiente si è svolta la cerimonia di consegna della bandiera Spighe Verdi, conferita quest'anno al Comune di Ragusa assieme ad altri 26 comuni italiani. Il riconoscimento è stato istituito dalla FE e da Confagricoltura per premiare appunto quei comuni rurali che siano candidate per avere efficacemente sfruttato e valorizzato il proprio territorio con le produzioni agricole, la gestione dei rifiuti, la raccolta differenziata e l'accessibilità e qualità dell'offerta turistica. La bandiera è stata consegnata dall'assessore comunale Antonio Zanotto appositamente arrivato nella capitale per ritirare il premio. Ancora una volta, dichiarato l'esponente giunta a Piccitto, viene premato il lavoro svolto da questa amministrazione che conquista la prestigiosa bandiera Spighe Verdi e questa conferma del buon operato di questa amministrazione comunale che ha tra i propri obiettivi la valorizzazione del patrimonio agricolo e rurale che in questo caso viene anche sfruttato turisticamente.